Agli orti sociali di Città di Castello, nei pomeriggi di primavera o d'estate, tanti anziani e persone con disabilità condividono esperienze di vita in comune. Il 2024 rappresenta e continuerà a rappresentare da qui ai prossimi mesi un anno pieno di novità in termini di servizi, ma innanzitutto in termini di un'innovazione che rappresenta quella di aver destinato due appezzamenti di terreni a ragazzi con disabilità. Un'idea che abbiamo avuto in linea con tutti i servizi socioassistenziali del nostro territorio, che puntano non soltanto al mero assistenzialismo, bensì a mettere in gioco i ragazzi e quindi far emergere le loro attitudini e le loro capacità attraverso la pratica agricola. Ne scaturisce comunque un rapporto eccezionale, vediamo tutti i giorni questi pensionati che si interfacciano, aiutano, collaborano con i nostri ragazzi diversamente abili, come davvero se fossero, tra virgolette, i loro nipotini, per cui inclusione all'inclusione. Io praticamente sono circa un paio d'anni che ci sono e ho riscontrato una realtà molto molto bella, perché poi lavorare con questi ragazzi è una bella esperienza, penso che è una cosa bellissima sia per loro che per noi. Poi la gente cerca di aiutarsi l'uno con l'altro, quelli in difficoltà, insomma, cerchiamo di aiutarli. Mi piace venire qua, a meno qui se ripire a fresco, c'è in compagnia con gli altri, no? E se passa una parola con qualcuno, che è molto bello, no? Grazie.